La situazione di via Barca a Tavernella è una situazione che mi è stata segnalata fin dai primi momenti del mio mandato da sindaco, da molti cittadini di quella zona, come molto pericolosa. Effettivamente è vero perché c'è questa discesa che ti porta poi in fondo ad una curva dove c'è un incrocio molto pericoloso con una via via Elitalia che esce da un'area abitata e che se ci sono auto che scendono in forte velocità diventa pericolosissima. In ugual misura è pericoloso invece nella zona alta via Barca, nell'incrocio vicino alla Flamiglia dove ci sono anche alcune attività commerciali e quindi c'è un certo movimento di persone. Io ho semplicemente chiesto ai vigili e all'ufficio tecnico di rendere sicura quella via e quella zona. Mi hanno fatto questo progetto, mi hanno proposto i 40 km all'ora e mi hanno proposto 4 punti per posizionare questi marchi ingegni come dei suasori di velocità. Perché 4? Perché per la conformazione di quella via se ne posizionavano due in fondo sarebbero andati veloci in cima, se se ne posizionavano due in cima sarebbero andati veloci in fondo. Intanto questi disfasori di velocità attualmente installati non stanno ancora funzionando. Perché per un primo periodo noi li abbiamo installati senza innescarli, usiamo questo termine. Perché? Perché vogliamo che la gente si abiti a vedere, non vogliamo fare le imboscate. La gente deve sapere che ci sono e di conseguente si abiti ad andare piano. E anche quando saranno attivi saranno a rotazione con tutti gli altri posizionati sul territorio, quindi non è che ci saranno tutti i giorni in attività. Io ho avuto molti apprezzamenti per questa cosa. Il cittadino che ieri è intervenuto ha il suo punto di vista, oltretutto è anche un amico che stimo, quindi apprezzo anche il suo punto di vista e lo rispetto. Però ripeto, l'amministrazione comunale di Colle Metauro è evocata semplicemente alla sicurezza della strada e dei cittadini, non a fare cassa. L'anno scorso il 50% di multe sono state per eccesso di velocità, rilevate quindi con il radar, con l'autovelox e il di 50% per altre motivazioni. Ecco, quest'anno a bilancio abbiamo dato un'indicazione di ridurre al 40% quelle per velocità, quindi di dissuadere, non di multare, e di elevare al 60% quello per mancanza di assicurazione, mancanza di sicurezza o di vieti di sosta, eccetera. Conseguentemente c'è proprio un'attenzione particolare della nostra amministrazione affinché non si faccia cassa attraverso le multe, ma si educa il cittadino al rispetto dei codici della strada.